Stesso paese, stessi diritti, la conoscenza non si spezza, no al disegno di legge sull'autonomia differenziata. Con questo slogan, la FLC, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, della CGL, sta girando l'Italia con il camper dei diritti, parcheggiato in questi giorni anche a Sanremo e ieri a Genova. L'autonomia differenziata, secondo la FLC, renderà sanità, istruzione e mobilità diseguali spezzando l'unità d'Italia. Noi vogliamo ribadire il nostro no all'autonomia differenziata, in particolare alla regionalizzazione del sistema dell'istruzione perché farebbe venire meno il diritto allo studio uguale in tutto il territorio nazionale, perché creerebbe delle scuole diseguali in tutto il territorio, diseguali nelle strutture, diseguali nelle risorse, diseguali nel piano di studi, perché le regioni in autonomia potrebbero decidere non soltanto sulla retribuzione dei propri lavoratori, ma anche sul piano di studi, che logicamente sarebbe piegato alla volontà del territorio e di conseguenza le aziende di quel territorio e quindi metterebbe proprio in discussione il valore legale del titolo di studio in tutto il territorio nazionale. Noi metteremo in piedi tutte le iniziative democratiche per evitare che si arrivi alla regionalizzazione del sistema dell'istruzione perché sarebbe il preludio ad una privatizzazione della scuola pubblica, così come è stato in sanità. Quindi ci sarebbero meno risorse, meno personale sulla scuola pubblica per aprire la strada alle privatizzazioni e noi questo non lo possiamo permettere.